Sono Natalia Meilunas, sono responsabile soprattutto per l'esportazione dei nostri vini in tutti i paesi del mondo. La caratteristica principale dei nostri vini sarebbe l'eleganza. Il mio vino preferito è decisamente la nostra nuovissima etichetta, la Fortezza dell'Aiola, perché per me credo sia una rappresentazione molto veritiera di tutto ciò che è Fattoria dell'Aiola. Come vedete dall'etichetta si tratta della nostra Fortezza che risale almeno a 1397. Dall'altra parte è una innovazione, una novità per l'azienda perché per la prima volta abbiamo fatto un Chianti Classico Riserva con 100% Sangiovese e tutte le uve provengono da un singolo vigneto in posizione più alta dell'azienda, a 480 metri sul livello del mare, che si trova proprio di fronte a questo castello. Se parliamo dei mercati esteri, la caratteristica principale che apprezzano tanto i nostri clienti è l'impronte individuale, la riconoscibilità dei nostri vini.